Ciao a tutti, sono Sebastiano, coordinatore insieme a Eva dei corsi di nuoto, miei episciolini e ragazzi, qui allo Scorting Club Noir. Oggi voglio parlarvi di una cosa speciale, i livelli del diploma di nuoto. A dicembre, alla fine del primo trimestre, possederemo ai ragazzi un diploma del colore del livello raggiunto. Mi sa che mi servirà una mano in più per tenere tutti questi diplomi, la ringrazio. Ogni colore rappresenta un livello e sul retro troverete tutti i dettagli sui progressi dei vostri bimbi per riconoscere i loro sforzi e motivarli a migliorare. A giugno, invece, consegneremo un braccialetto in silicone dello stesso colore del livello raggiunto dai ragazzi. E ricordate che ha già ricevuto il braccialetto, può indossarlo in fiscina. È utile per noi istruttori, così possiamo riconoscere subito il livello. I ragazzi, invece, possono esibire con orgoglio i loro progressi ottenuti in app. Ci vediamo presto in piscina!